Come state? Spero tutto bene, oggi nuovo troll sul canale, anche se io l'avevo già fatto a Nico, scusami Nico, oggi andiamo a fare un troll veramente devastante, perché ho un mio fan, ho sempre un abbonato ragazzi, mi ha scritto che sua sorella è una grandissima fan di Loco, e allora gli ho detto, senti preparala, falla entrare un po' nel senso degli abbonati in questi giorni e continua a chiedere di Loco quando viene Loco, perché tanto Loco non entra nel senso degli abbonati miei, perché ha il suo server. Oggi ragazzi andremo a trollarlo, ho trovato il momento giusto nel quale è nel server, se volete altri video troll in questa maniera, fatti così, non so come li volete, scrivete sotto nei commenti, lasciate un mi piace e superiamo i 10.000 mi piace, e se ancora non siete iscritti perché guardate su Youtube, dice che la maggior parte di voi guarda i video ma non è iscritta, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video. Ci siamo ragazzi, allora siamo all'interno del server, disclaimer, prima per non farci sgamare, io e Nico abbiamo dovuto dire che stavamo sistemando dei problemi con gli IPS e cose qua, quindi scusami Bruce, anche se in realtà abbiamo controllato lo stesso, era un po' un escamotage, e poi Nico poi ha bannato Lord Maverick perché Lord Maverick stava pressando, eh lo so, io una cosa vi chiedo ragazzi, quando vedete che internet si è non continuato a dire Ah, sta trollando, troll, troll, sta facendo lo scherzo, perché se no mi fate saltare la copertura, capite? Cioè, se volete vedere dei troll, cercate di stare un pochino così, ecco, la ragazza di Loco ha iniziato il suo percorso di arrivo a Loco, guardate cosa ha scritto questa volta, io vorrei solo che Loco mi calcolasse, no, poverina, mi dispiace veramente un sacco, ma facciamo una cosa Nico, cosa? Mettiamo tipo dei cartelli vicino a casa sua, con scritto Loco è stato qui, tipo cose del genere, allora, io ti dico, sono tre giorni che gioca, ma non ha fatto praticamente, ma sai qui non ha fatto niente? Non ha fatto praticamente niente, ha una po', una casa, minuscola, entra, va in miniera, sta ferma e scrive in chat, c'è Loco, ma Loco? No, no, ha messo il cartello, l'ha visto? Lo sto già guardando, non so, te l'ha già visto? Loco è stato qui, vediamo cosa dice, Loco dove sei? Loco dove sei? Ho dei fiori per te, vediamo se gli butta dei fiori, vediamo se li prende... No, aspetta, ho un'idea, possiamo creare il pupino di Loco, dove è sparita? È sparita? È sparita la ragazza di Loco, Nico! Che senso è sparita, scusa? Loco, hai fatto te il caretlo? Ma dove è finita la ragazza di Loco? Ma ti giuro, era qua due secondi fa! Nico, dove sei? Non lo so, sto spumonando Loco, un attimo! Ragazzi, non ci credo, ho quella rosa, ma scusami tipo da leva, la ragazza di Loco Ok, dov'è che è? Ma non l'avevo vista, ma era vicino a casa, non l'avevo vista, dove la metti? E dove vuoi? Allora, mettila all'interno di casa, proprio all'interno di casa, appena vedi che lo vede, impazzisci, devi toglierlo Ok, allora aspetta, devo fare così, così, dimmi se l'hai messo, metti, 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 dove sei? L'ho perso, dove sei? Non funziona! Come non funziona, Nico, no! Perché non funziona? Ok, eccola, 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 sta guardando sotto, non so cosa sta guardando sotto Stava spagando l'albero, ieri in chat, questo albero, sapete cosa diceva? No, questo albero me lo devo ottenere, ecco, vediamo la reazione, vediamo la reazione Toglio! Oddio! Oddio, Loco! Loco? C'era Loco? Nico, rispondi te, tipo, vi ho appena detto che Loco stava andando in live Ma Loco sta facendo merenda Vediamo cosa dice, poverino, pochettino In che senso dove? Dove? Buon Dio! Non va a traccio Aspetta 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 Fai una cosa Ti metto un secchio di lava e ci metti dentro l'occhio Voglio vedere se lo seguo, aspetta, facciamo così In che senso lo seguo? No! È cattivissimo Eh, ho capito, però, aspetta, lava Mettiamola tipo qua, la lava Mettiamo la lava qua No, sta scendo l'acqua, vero? Sì, sta scendo l'acqua Mannaggia a me che metto le cose vicino alla gravel Ok, ho capito Tu metti Loco qua E poi dopo togli Aspetta così scusa, qui devi spawnarlo E poi dopo togli il sotto così lei si butta dentro in teoria Dice la lava e muore Tanto non c'è niente Hai tolto la lava Ho rimesso la lava Vai, vieni, ok Ma dove andate a finire? Non lo so, fa la venire qua in qualche modo Mi sono abbonato a Marce così forse incontravo Loco Questa ancora sta scrivendo ste cose Ok, Loco Devi togliere il blocco quando te lo dico, eh? Va bene È rientrata l'entrata? Ok? L'avevi sotto il tolto di Loco, togli loco il blocco, togli loco, ok? No, che perde tutto No, ma non c'è va niente controllato Non aveva niente Aveva tipo un po' di legno Non aveva niente Ri dai, guarda, glielo rimetti qua Glielo rimetti C'era Loco ancora Secondo me la gente pazzisce Morta per amore Oddio 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 Aspetta Allora, Nico Devi entrare in gioco te qua Cosa devo fare? Ah, ciao ha scritto Chi ti piace la ragazza Lui è caduto Vediamo se iniziano a parlare Dai che fanno amicizie Dai che fanno amicizie Dai che fanno amicizie Ho svuotato l'inventario Ok, no Ah, scherzo Mi piace Loco Ciao, mi piace Loco Aspetta Nico, scrivi te tipo Ma non sei la sua ragazza? Scusami Tipo una roba di genere Ah, ma sei la sua ragazza Una roba di genere Ho perso casa La tipo io La tipo io TP, la ragazza di Loco Madame March Adesso scriverà Ho ritrovato casa Vabbè Ma sei la sua ragazza Grazie Oddio Oddio raga Sto malissimo Queste cose qui Mi fanno pisciar da ridere Loco Scrivo sono stato io? Sì, sono stato io No, sono io Ah, 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 ah Ciao, scherzo Non c'è Loco Non c'è Loco Raga, è bellissimo È bellissimo Aspetta, fai così Fai così Allora, aspetta Mettiamo Della bedrock in aria Ok Con delle scale Che portano a Loco Vai Che però Lei non può toccare Ok, tipo così Guarda Facciamo così Facciamo così Facciamo così Così, così Bisogna togliere questo Questo Ok Che stai facendo? Ok, metti Loco lì dentro E tappa sopra Vai Mettilo lì dentro Fatto Non è vero È spolato giù È spolato giù L'ha sbagliato L'ha visto? È tornato su Sì, l'ha visto Però fa niente Ok Loco Loco è morto Non ho capito Cosa è successo? Loco è morto Ah, l'hender Ah, l'ho deciso L'hender man Non riporto qua Ok, riportalo lì Io li faccio la scala Per andare sopra È come se fosse il void Il mondo void Ok Grazie Loco Vabbè, è convinto Che ci sia Loco lei Dilli, basta Non c'è Loco Loco, devi andare in live Non c'è Loco Se hai bisogno di qualcosa Tipo blocchi Se chiedi pure a me Sono sempre disponibile Che piedi Lord Maverick Dai, dai Ragazza di Loco Devi salire su questa scala Non le ha viste forse Non le ha viste Non lo so Dai, è un po' confusa Dai, da ragazza di Loco Grazie Niente Solo Loco Niente, vuole solo Loco Vuole solo Loco Aspetta, mettiamogli le torce Magari vuole Ok, la vista, la vista, la vista La vista, la vista La vista, la vista Sali Non toglierlo Non toglierlo Dimmi tu quando toglierlo Vediamo se parla con Loco Lo si gasta anche guardando Tu non puoi scrivere tipo con Loco Il nome Loco Ehm Sì Mi fate le reazioni No, dopo dobbiamo fare Davvero Loco però Dopo bisogna fare Loco Dopo gli scrivo Dopo gli schiava Loco Mi fa tenerezza Se n'è andata Gli sta portando una rosa Gli sta portando una rosa Che cosa tenera Che cosa tenera Oddio Per te Oddio E ma Loco non risponde No, no Non scrivere Non scrivere con Loco Non scrivere con Loco No Non scrivere con Loco Scrivi dopo con Loco Per ringraziarla Perché se Loco deve andare in live Non può scrivere Ok 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 Basta Si stanno guardando Come due innamorati Steve Adesso però Loco E scomparirà No lo fai scomparire? Adì E' sparito Mi rispondi Non c'è più E' sparito per sempre Loco Torna da me Non andare via Torna Eccolo E se ne va E' tornato Se ne è andato Torna E se ne va E se ne va Dove va? Scrivi tipo in chat Ragazzi Loco Tutto ok Mi fa morire Sta cosa Giuro Giuro Torna E non più No Adesso si mette lì lei Fallo spondare dentro Oddio No aspetta non è lei In chi poi siamo sentiti Allora chiudiamoli per sempre lì dentro Così non potranno mai più uscire E togliamo Loco E togli Loco Togli Loco Poverina L'ho chiusa dentro No Ma scusa aspetta Scrivi tipo in chat Lord Maverick Puoi aiutarla a trovare Loco Tipo una roba del genere Loco in visi Non lo so No non scrivere questo tipo di lì Ma voi avete visto Loco Io non lo vedo in Vansh Avete visto Loco prima per caso Tipo una roba del genere Sì Ma come sì? Ah beh lei giustamente l'ha visto No che la uccidi No non muore No io sto guardando Buddy Cosa vuol dire? In che senso? Ma perché Buddy è live Buddy è l'amico di Loco Allora facciamo così Non puoi farlo camminare? A Loco? Sì Non lo so come si faccia Non lo so Fallo solo camminare Avanti e indietro e basta Lo faccio girare in tondo Sì fallo girare in tondo Vediamo cosa fa lei Se non è impazzisce Lo faccio impazzito Lo faccio impazzito Poi basta raga Perché sono il troll È troppo lungo Allora dopo sai cosa facciamo? La chiudiamo in una palla di bedrock Gigante ragazzi Gigante E la Cosa sta facendo? Mico? Finché Loco non arriva Ma cosa vuol dire? Gli metto un po' di lava? No Perché? No così Non so sta camminando Loco Ma non lo vedo Dov'è? Ma non lo so Dovrebbe camminare Ah ma aspetta è bloccato lì dentro Ok l'ho lasciato fisso Ho tolto le scale Ho tolto le scale Ho tolto le scale Si è un po' rotto Loco Mi sa Dov'è Loco? Dov'è? Non lo vedo più Eh è qua Però lo vedo un po' confuso Dov'è? Non lo vedo E qui da me E tu dove sei? Sei in vani Non lo so Hai ragione anche tu Aspetta vediamo se va No non va Io sto seguendo la ragazza Eccolo là L'ha visto L'ha visto Non possiamo trascinarlo con una Oh sta camminando Lo sto facendo camminare Ok ok Ti ho messo 20 minuti Ok Oh dio Sto seguendo No i ragni Aspetta creeper Creeper Ok fai spaventare il creeper No aspetta perché non me lo fa piazzare Aiuto Ok No No Non può lo colloca su ucciderla? Eh no Non credo Cavolo potrebbe essere inciato Veniva fuori La ragazza di Loco è morta per Loco Locis Porca miseria Eh non si può Mannaggia Vabbè ragazzi Io direi basta Ok Gli faremo avere il messaggio da Gli faremo avere il messaggio da Loco Perché è giusto che sia così L'abbiamo trovata abbastanza Spero che tuo fratello sia contento di questo troll Perché Lei non mi segue in realtà Perché Non è piccola in realtà Perché mi ha detto che ha 12 anni Però Non so come faccia a non sapere chi è È un troll Ma va bene così ragazzi Io vi saluto Nico vi saluta Nico vieni qua Ciao 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 No non scriviamo in chat No si dai Loco dai Loco dai Va bene ragazzi Lei continua così Per terra Le farò avere E reperire il messaggio di Loco E Loco purtroppo In live E noi ci vediamo in un prossimo video Qui su Marci Da Marci è tutto Ciao a tutti